Seguimi, ti porto in questo attico e super attico, esclusivo di Engen & Fölkers, al settimo e ottavo piano di questo stabile razionalista degli anni 50. Grande salone doppio, luminosissimo, seguimi fino in fondo perché di sopra c'è una sorpresa spaziale. Zona notte, super top, camera con questa vista su un mare di verde. Grande bagno con mega doccia, grande seconda camera, con zona salottino, grande bagno suite. Altra camera, grande, e qui sopra seguimi perché abbiamo la vera, vera chicca. Piano super attico, disimpegno, grande camera matrimoniale, con zona lavanderia. E qui la vera chicca, anzi direi un diamante davvero prezioso e introvabile a Milano. Un terrazzo di oltre 100 metri quadri, al piano ottavo, e si comenta da solo. Qui l'arena e il parco Sempione, dall'altro lato abbiamo tutto Porta Nuova District, grande cucina, luminosissima. Ciao Charlie! Qui sotto c'era una grande piscina che io ripristinerei da subito. Ti ho portato in via Giulianova, piani settimo, ottavo, attico e super attico, a pochi metri da Corso Garibaldi e dal Parco Sempione. 233 metri quadri su due livelli, con un terrazzo di oltre 100 metri quadri. Questo attico ha classe e sapore, ma lo puoi personalizzare a tuo piacimento. E la richiesta per avere questa perla rara a Milano è perfetta. 2.970.000 euro. Ah, se hai bisogno di un box, c'è un box doppio, con richiesta a parte. 3.970.000 euro.